Il Parco Associati è uno studio nato ormai 21 anni fa con l'ambizione di andare a lavorare su diverse scale del progetto. Noi abbiamo sempre cercato di lasciare grande libertà d'azione. Sicuramente in modo istintivo abbiamo capito che questa libertà per questo gruppo era necessaria per poter esprimere e dare il meglio di sé. Cercare di non trovare una specializzazione vera e propria, ma cercare di mantenere la possibilità di lavorare su veramente tutte le opportunità di progetto possibili. Grazie per la visione!